Ben ritrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro giornale, apertura dedicata all'ultimo atto delle elezioni amministrative, ormai sapete tutto come è andata, chi ha vinto, chi ha perso e noi ovviamente ci soffermiamo sul Napoli con la vittoria di De Magistris, ma anche della vittoria a battipaglia di una donna, anche qui come a Roma è la prima volta che una donna guiderà la città, si chiama Cecilia Francese, ha sconfitto il suo avversario Motta ma anche i pronostici che la davano sconfitta già dalla vigilia, ma andiamo con ordine e vediamo il servizio appunto sui ballottaggi. È il Premier Renzi il grande sconfitto dei ballottaggi amministrativi che si sono svolti in quasi tutte le grandi città italiane. Tiene botta praticamente solo a Milano il Presidente del Consiglio, di sicuro quella che viene fuori dal secondo turno di votazioni è una pesante debacle per il Partito Democratico. A Napoli Luigi De Magistris ha confermato le impressioni del primo turno vincendo a mani basse il ballottaggio con il rappresentante del centro-destra Gianni Lettieri. 2-0 per De Magistris che già si impose cinque anni fa. 66,85% le preferenze per il Sindaco riconfermato che si è affacciato festante dal balcone con addosso la maglia del Napoli e poi via per le strade cittadine festeggiando il 49esimo compleanno nel migliore dei modi. Bassissima però l'affluenza alle urne, si sono recati al voto soltanto il 36% degli aventi diritto e la quota più bassa di tutta Italia. Sono molto soddisfatto di questo straordinario risultato che abbiamo ottenuto. Questa è una vittoria esclusiva dei nostri militanti, del nostro popolo, di Luigi De Magistris e di tutte le persone che ci hanno creduto. Io farò il Sindaco di Napoli, H24, dal 2016 al 2021. Napoli diventerà un soggetto autonomo, Napoli diventerà una forza nazionale ed internazionale. Eccoci invece alle altre città di provincia della Campania. A Benevento l'ex guardia sigilli Clemente Mastella batte del vecchio. Anche qui non c'è stata partita. Quasi il 63% ha preferito Mastella che diventa sindaco, stop pesante del PD in questa città come sottolineato anche dal vice segretario dell'Udc nazionale Giuseppe De Mita. A Caserta il PD ha invece vinto. Il candidato Carlo Marino, che aveva già sfiorato il successo al primo turno, ha battuto l'ex presidente della provincia Ventre, sostenuto in prima persona da Berlusconi da Forza Italia. Bassa pure qui la partecipazione al voto. Nell'unica città della provincia di Salerno che invece doveva ricarsi di nuovo alle urne, cioè Battipaglia, ha vinto a sorpresa col 55% dei voti la candidata Cecilia Francese. È il primo sindaco donna della storia di Battipaglia, battuto il candidato del centro-sinistra, sostenuto anche dal governatore De Luca, Gerardo Motta, che si è fermato al 45% circa. Motta ha chiaramente dichiarato, alla fine del voto, che l'amministrazione che entrerà in carica durerà appena sei mesi. A votare qui quasi il 60% degli aventi diritto, quella francese che ha saputo ribaltare i pronostici della vigilia e il dato del primo turno. La cosa che bisognerà valutare sono i debiti effettivi che ha questo comune, realmente, perché quello non siamo mai riusciti a capire, 23, poi 15, poi 30, quindi quali sono le entrate certe e soprattutto cercare di capire dove si può tagliare, quindi lotta agli sprechi, come abbiamo detto, ottimalizzazione della spesa, mettere in campo uno staff di persone capaci di attirare fondi, comunità europea, ministeriali, regionali, quindi sicuramente questa sarà la prima cosa da fare. La riorganizzazione della macchina amministrativa, questo sicuramente lotta alla burocratizzazione, quella che ha bloccato lo sviluppo per anni. Qui il commissario vedo che mi ha lasciato un libro che noi gli abbiamo regalato quando si sono insediati, lavoro in corso, noi l'abbiamo stampato nel 2013, l'anno in cui poi è caduta l'amministrazione Santomauro, tutte le nostre attività svolte in questi anni, questa è la nostra storia. Lavoro in corso perché? Perché c'è ancora tanto da fare e continueremo in questo senso. Ed ora parliamo della missione a Napoli del sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquarto per incontrare i vertici regionali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari. L'obiettivo è cercare di riprendere il progetto di riqualificazione abitativa eliminando i prefabbricati pesanti che hanno caratterizzato la crescita urbanistica e residenziale del quartiere di Monte Pescovado. Il progetto si era affermato dopo la costruzione di un solo edificio, o meglio il completamento di un solo edificio per il fallimento della società che doveva provvedere all'edificazione di un quartiere tutto nuovo. Ora il tentativo dell'amministrazione Torquato che intende riqualificare attraverso la costruzione di nuove case l'intero rione, mentre sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria dei prefabbricati per cercare di ridurne le disfunzioni che si ripercuotono ovviamente sui residenti di queste case. E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca, cominciamo da Cava dei Tirreni dove i carabinieri stanno cercando di identificare le persone che nella notte tra sabato e domenica hanno trasformato le strade di Cava dei Tirreni in un set di film del Far West. I gnoti infatti hanno esploso colpi di pistola contro l'autovettura del proprietario di una penetteria in via Mazzini. Poco prima una bomba carta era stata fatta scoppiare in via Santa Maria del Rovo davanti all'alzare cinesca dell'attività commerciale. Gli investigatori stanno verificando se al commerciante erano state rivolte minacce estorsive. Due giorni prima era stato preso di mira un bar in via mandoli di proprietà di un tifusissimo della Cavese, di un'ultra appunto della Cavese. Sempre a Cava dei Tirreni agenti della questura di Saleno del locale commissariato hanno arrestato un rumeno di 25 anni residente a Cava dei Tirreni. È stato condannato per i reati di furto e rapina aggravati, commessi negli anni passati, in precisione negli anni 2012, 2013 e 2014. Per lui una pena di 5 anni di reclusione. Purtroppo è salito a 3 il bilancio delle vittime dell'esplosione di sabato pomeriggio a Corletto Monforte, in provincia di Salerno, nell'ospedale Cardarelli di Napoli. È deceduto questa mattina Rosario Cancro di 61 anni. L'uomo era il proprietario dell'immobile del centro storico dove si era verificato lo scoppio provocato da una fuoriuscita di gas da una bombola per uso domestico. Aveva ustioni sull'80% del corpo. Nell'esplosione era morto Mario Salerno, di 70 anni, originario del posto ma residente ad Asti, in Piemonte, rientrato nel paese natale per qualche giorno di vacanza e si trovava a casa del consuocero Rosario Cancro, morto appunto oggi. Nella giornata di ieri era deceduta sempre all'ospedale Cardarelli di Napoli, annunziata Farina, una donna di 95 anni. I carabinieri della compagnia di Sampri hanno arrestato un giovane di 22 anni che non si era fermato al posto di blocco. C'è stato un inseguimento, poi i carabinieri sono riusciti a fermarli. In auto aveva con sé un involucro con 23 dosi di eroina e cocaina. Un altro arrestato nel golfo di Policastro, sempre per detenzione di droga, è un uomo di 44 anni trovato in possesso di 8 dosi di eroina per un peso complessivo di oltre 5 grammi. Ed ora andiamo a Napoli, c'è stata una maxi operazione, sono state arrestate 90 persone, 300 carabinieri, hanno lavorato dall'alba fino alle prime ore del giorno per dare un colpo mortale al clan D'Amico che controllava la zona est della città. Vediamo. Una vasta operazione anticamorra alla quale hanno partecipato oltre 300 carabinieri del comando provinciale di Napoli è scattata questa mattina all'alba nel capologo campano per la cattura di una novantina di persone accusate di far parte, a vario titolo, del clan D'Amico che controlla tutte le attività illecite nella periferia est della città. I reati ipotizzati dalla direzione distrittuale antimafia in ordinanza di custode cautelare emesse dal GIP di Napoli sono associazioni per delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione, narcotraffico, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. I carabinieri hanno completamente circondato, anche con l'ausilio di elicotteri, l'area del rione denominato Conocal. Il clan, secondo gli investigatori, controllava tutte le attività di questa zona legate alla gestione delle piazze di spaccio di droga, al racket delle estorsioni, al commercio delle case popolari. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno raccolto elementi sul ruolo di vertice, svolte dalle donne del clan e con una serie di attività tecniche hanno ricostruito i contesti criminali inseriti nella vita quotidiana del rione. Grossa organizzazione, c'è un lavoro investigativo molto accurato, in realtà c'è dietro il desiderio, la voglia di dare una risposta veloce e concreta ai problemi che hanno afflitto Ponticelli negli ultimi periodi. La vicenda di D'Amico, la vicenda legata ai molti delitti dell'ultimo periodo, sembra una sorta di filo che non si riesce a tagliare, perché poi ne nascono sempre di nuovi, di clan. E questo è legato anche un po' alla lentezza del procedere della giustizia. Il passaggio investigativo si accompagna ad un'altra attività che è altrettanto importante, che è quella della prevenzione e di tutte le altre attività che noi facciamo nelle nostre competenze. Possiamo raccontare quello che avete individuato in questa indagine? L'indagine ha consentito di fare chiarezza, di mettere in luce l'articolazione di questo clan, di raccogliere indizi gravi di colpevolezza in ordine a reati di una certa gravità, quali l'associazione di tipo mafioso, il traffico di sostanze stupefacenti. È un clan che ha lucrato tantissimo su fiorente attività di spaccio, che si è reso responsabile di estorsioni, che ha condotto in maniera illecita la gestione degli alloggi di edilizia popolare, dandoli in assegnazione a persone compiacenti o comunque contigue al clan stesso e cacciando di fatto via gli aventi titoli. Ecco, io su questo, proprio per questo dicevo prima, questi hanno potuto lavorare indisturbati perché per altri versi altre istituzioni forse? Hanno lavorato sotto indagine perché se oggi siamo riusciti a scoprire questo tipo di reato è perché è stata monitorata in ogni fase l'attività illecita di questo gruppo criminale. Ancora cronaca, ancora Napoli perché c'è stato un agguato nel quartiere Pianura, un uomo Giovanni Bellofiore di 30 anni con precedenti per droga è stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco mentre stava rincasando. Il soccorso da alcuni parenti è stato accompagnato all'ospedale San Paolo di Napoli dove sarà operato, non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia l'uomo ha raccontato agli investigatori che stava rincasando e che era appena scesa dall'autovettura quando una persona che lo aspettava con il volto coperto da un passamontagna ha sparato contro di lui alcuni colpi di pistola, poi è fuggito a bordo di un'auto. Sono stati familiari ad accompagnarlo in ospedale. In strada i poliziotti hanno trovato quattro bossoli di un revolver calibro 9. Cambiamo argomento, parliamo di questa intenzione dell'amministrazione comunale di Pagani di lasciare il consorzio di Bacino Salerno 1, c'è però ovviamente il problema dei dipendenti e l'amministratore straordinario del consorzio di Bacino Salerno 1, Siani, si dice favorevole al passaggio di cantiere. Vediamo. Per presentare dei ricorsi in opposizione a queste cartelle sartoriali. Per garantire ai dipendenti del consorzio di Bacino di Pagani lavoro e stipendio siamo completamente favorevoli ad effettuare il passaggio di cantiere. È la dichiarazione del commissario Fabio Siani in merito alla fuoriuscita del comune di Pagani dal consorzio di Bacino Salerno 1. Con Pagani mai come adesso il clima è particolarmente sereno, vi sono delle corrispondenze su fisiologiche disfunzioni e del comune, del consorzio, ma ci stanno, c'è un cantiere complicato, un cantiere difficile con 60 dipendenti, c'è una situazione particolare, però devo dire che i rapporti sono stati pienamente ripristinati. Il consorzio, letta la nuova legge regionale, la legge 14 del 2016, ritiene che in medio tempo, ai sensi dell'articolo 40 della città da norma, i comuni possono assumere il servizio purché venga assunto nel rispetto dell'attuale normativa e purché sia prevista una clausola risolutiva espressa che consenta al soggetto gestore che sarà individuato dall'ente d'ambito una risoluzione immediata del rapporto che si andrebbe a estaurare medio tempore. Quindi noi vogliamo favorire questi passaggi proprio perché sappiamo che la difficoltà finanziaria del consorzio si è aggravata e quindi per garantire ai dipendenti la continuità occupazionale, per garantire ai dipendenti la possibilità di prendere lo stipendio favoriremo sicuramente questo processo. Si può fare, la domanda è questa, ci sono le possibilità fattive che il comune possa attraverso magari una gestione temporanea fare una cosa del genere in un passaggio di cantiere? Assolutamente sì, lo prevede la legge. Restiamo in qualche modo in argomento perché l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore parteciperà al bando per il finanziamento di iniziative di comunicazione per la raccolta differenziata dei rifiuti emanato dall'Anci Conai. Il progetto denominato Colora la differenza prevede un piano di comunicazione con una campagna informativa e di sensibilizzazione per il conferimento presso il centro di raccolta comunale che si trova nell'area industriale di Fosso Imperatore, un progetto educativo per le scuole e un intervento di coinvolgimento attivo per le utenze non domestiche. Restiamo a Nocera perché si è concluso positivamente l'incontro negli uffici regionali tra la funzionaria delegata della Regione Campania e il sindaco di Nocera Inferiore, Malle Torquato, sul problema dei prefabbricati pesanti di Montevescovato, come vi avevamo informato prima in questa edizione del giornale. Il sindaco al termine dell'incontro ha detto che è stato un incontro molto importante per migliorare la vivibilità dei residenti di una zona che da tempo necessita di interventi, cioè quella delle palazzine popolari del rione di Montevescovato. Il sindaco, Malle Torquato, ha raggiunto un'intesa per un accordo programma che prevede entro qualche settimana lo sblocco parziale dei fondi che interesseranno una parte delle strutture che necessitano di interventi strutturali. Il sindaco si è detto molto soddisfatto e convinto che la risoluzione delle problematiche per i residenti di Montevescovato sia davvero a un buon punto. Ed ora torniamo a Pagani perché c'è stata un'iniziativa legata agli amici a quattro zampe, parliamo dell'associazione Pagani Migliore che ha effettuato una campagna di sensibilizzazione per la microcippatura appunto dei cani. Vediamo. Amare il proprio cane significa proteggerlo, farlo diventare uno di famiglia, dargli una vera e propria carta d'identità così da essere sicuri che in caso di problemi possa ritornare nella sua casa. Una giornata di promozione per l'identificazione con l'applicazione di microchip è stata organizzata in piazza Sant'Alfonso. La registrazione è stata completamente gratuita e la mattinata è stata un successo vista la presenza di molti proprietari di cani che hanno aderito all'iniziativa. Siamo intervenuti per sensibilizzare le persone rispetto all'applicazione del microchip, è stata una bellissima giornata, sono intervenute tantissime persone, è stato un grande successo e ci auguriamo che sia la stessa cosa il 18 settembre prossimo. Speriamo che le persone si sensibilizzino quanto più possibile rispetto alla tematica non solo dell'applicazione del microchip ma anche del randaggismo e del contenimento del fenomeno. Siamo molto contenti, abbiamo già impiantato circa 50-60 microchip, non poteva andare meglio, è un grande successo, tante persone che hanno bisogno di questo servizio e noi siamo felici di poterlo offrire in maniera totalmente gratuita grazie anche all'ASL Pagani Sarno. Che dire, cercheremo di promuovere e di portare di nuovo in piazza queste iniziative insieme a tante altre che sono già in programmazione, sempre e solo per il bene della nostra città e per i nostri concittadini. E l'associazione zoofila paganese ha preso una posizione netta, decisa rispetto alla strage dei gatti che sta lasciando di stucco gli animalisti e più in generale tutti i cittadini di Pagani. Una trentina, i felini sterminati in questi ultimi giorni con l'utilizzo di veleno. Ecco il commento della responsabile dell'associazione zoofila. Innanzitutto questa è una cosa gravissima, non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Vittime sono state non soltanto colonie feline ma anche che i cani, per esempio quelli che erano in via Malfitana sulla torretta, che più volte sono stati sterminati in questo modo. È una cosa che fa vergogna alla popolazione che sia del comune di Pagani o di qualunque altro comune. Non è questa la modalità con la quale si deve in qualche modo avere un rapporto, è una gestione del fenomeno del randagismo, nello specifico del fatto delle colonie feline, della colonia feline che è stata avvelenata a via Santa Chiara, posso dire semplicemente che si tratta di una colonia chiusa, quindi questo vuole dire che tutti gli elementi erano stati sterilizzati, erano tutti accuditi su un suolo anche privato e non davano fastidio. E questa cosa è stata veramente molto brutta perché comunque hanno fatto, hanno sterminato quasi l'intera colonia che è morta in maniera atroce e senza considerare un dato fondamentale che è quello della leptospirosi, che è una malattia mortale per l'uomo che si trasmette, che si veicola tramite l'urina dei ratti e se ci sono i ratti i gatti ovviamente non ci sono, forse le persone preferiscono più i ratti ai gatti. Ed ora ufficio reclami, torniamo in via De Gasperi, in una traversa di via De Gasperi a Pagani, cittadini su tutte le furie, rifiuti di ogni genere e forse anche amianto tra le erbacce che non vengono tagliate da mesi se non da anni. E nei fini di settimana il caos a causa di parcheggi sconsiderati dei cittadini che si regano nei vicini negozi. Vediamo. E ci risiamo di nuovo in via De Gasperi, di nuovo in una traversa dove insistono numerose villette e dove gli abitanti delle stesse si sentono cittadini paganesi dimenticati dalle istituzioni. Inascoltati, impauriti dal degrado che li attornia, arrabbiati infine e quindi pronti a segnalare ancora una volta ciò che porta la loro vivibilità ai livelli più bassi. Pagani dunque, traversa di via De Gasperi, una delle strade più trafficate dell'intero agro, tra le più corpose anche per la presenza di esercizi commerciali e abitazioni. Come in questo caso, villette, piccole palazzine dove si pensava poter vivere in tranquillità con servizi a portata di mano. Invece no, non è così. Hanno già denunciato la gravissima presenza di rifiuti di ogni genere nei giorni scorsi, così come evidenziato in un nostro servizio andò tenonda nel Tg di venerdì scorso. Sono passati alcuni giorni, ma nonostante le segnalazioni i rifiuti sono ancora lì, ammassati tra le erbacce alte che forse nascondono anche qualche animale potenzialmente pericoloso, vedi ratti o serpenti. Materiale di risulta, porte addirittura, tv, computer dismessi, addirittura pezzi di frigoriferi e poi ancora pneumatici e la preoccupazione crescente perché in questa zona i residenti temono possa nascondersi anche materiale dannoso, cioè l'amianto. Se non bastasse, durante il fine settimana in particolare, questa zona di via De Gasperi è diventato un inferno per i residenti perché arrivano a parcheggiare in tutte le ore della giornata utenti che spesso in modo incivile sostano perfino davanti agli ingressi delle abitazioni. Con tutto quello che ne consegue una visitina dei vigili urbani al sabato e la domenica non guasterebbe. E ancora, questa fetta di territorio è di competenza comunale oppure di privati? I cittadini attendono risposte. vogliono capire perché non ne possono più. Se tra le erbacce si nasconde per davvero anche l'amianto, bisognerebbe non intervenire subito, ma immediatamente, effettuando un sopralluogo e verificando. È davvero così difficile? Introduciamo un altro argomento. Hanno festeggiato i 30 anni dall'istituzione della loro parrocchia i fedeli della chiesa di Sant'Anna di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. Tanti ricordi insieme a momenti di preghiera durante la giornata delle celebrazioni che si è svolta ieri. Vediamo. Ritrovarsi tutti insieme, non solo per un momento di preghiera e per la Santa Messa. Stavolta i fedeli della parrocchia Sant'Anna di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore, grandi e piccini, si sono dati appuntamento per i ricordi, quelli ingialliti dal tempo, che sono riaffiorati ascoltando le parole di Don Mario Ceneri, parroco da circa un anno della parrocchia di Sant'Anna, che ha festeggiato il suo trentennale. È stato un momento speciale per chi in questa parrocchia ha vissuto i momenti dell'infanzia, poi dell'adolescenza e quindi quella dell'età adulta. C'è chi ha ricevuto il battesimo, la comunione e poi qui ha deciso di sposarsi. Tra emozione, commozione e qualche passaggio legato a momenti storici della sua istituzione, i fedeli della parrocchia Sant'Anna di Fiano Fosso Imperatore hanno gremito la chiesa. Siamo così contenti perché io sono nato con questa parrocchia, sono cresciuto e grazie a questa parrocchia noi riusciamo a tenere insieme sia noi adulti che i bambini che stanno crescendo man mano che vanno avanti. Ricordo che una tappa obbligata quando andavo con mio pari in bicicletta di ritorno dalla zona di Sarna e di San Valentino, qui c'era una fontana qua vicino dove ci si fermava. Resta un appuntamento importante per l'intera zona, non solo dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista civile e questo è anche un segno di attivismo non solo della parrocchia ma anche del comitato di questa zona di Fosso Imperatore di Fiano e San Mauro e Sant'Anna che fanno tante iniziative. Sono 30 anni che sono passati, le comunità sono state guidate da vari sacerdoti che questa sera la maggior parte di loro saranno qui presenti a esprimere la loro testimonianza e naturalmente io mi trovo a guidare questa parrocchia adesso e sono contento di poterla guidare perché anche sono aiutato, sostenuto, accompagnato da tante persone che in questi 30 anni sono state formate e hanno aiutato i vari sacerdoti che sono succeduti. Ho sempre trovato una comunità molto accogliente, quando venivo trovavo già tutto pronto, mi avevo veramente i ragazzi, i giovani che preparavano i canti della celebrazione. Mi trovo a Vicenza e anche la domenica vado nelle parrocchie dove mi chiedono, nel senso che io non vivo adesso in una parrocchia che ho tutte le domeniche durante la settimana. Mi manca certamente quello di conoscere le persone, quindi cambiando ogni domenica la comunità, i ragazzi che non sono sempre quelli, c'è un po' la nostalgia di ritrovare una comunità dove è più facile l'incontro e anche durante la settimana che si possa poi rivivere nella celebrazione domenicale. Quindi certamente è un po' l'esperienza che adesso vivo e quella di ricordare queste belle esperienze che ho fatto qui, ecco, nella parrocchia di Sant'Anna e anche in questa comunità. Il prossimo 16 ottobre il Beato Alfonso Maria Fusco sarà iscritto nell'albo dei Santi, lo ha comunicato il Santo Padre nel concistorio ordinario pubblico di oggi. Questa sera alle ore 20 le campane di tutte le parrocchie della diocesi suoneranno a festa. Già previste le iniziative per ottobre quando ad Angri il 22 ottobre alla celebrazione corissica di ringraziamento presieduta dal cardinale Angelo Amato, prefetto della congregazione delle cause dei Santi, ci sarà appunto questa celebrazione. Il Vescovo della diocesi di Giocese della Sarno, giudice, ha detto che i Santi ci aiutano a guardare il cielo, nostra Patria, a percorrere le strade e la storia della nostra terra come autentici testimoni del risorto. Ed ora chiudiamo la prima parte del giornale con due notizie di musica. Annocere è tutto pronto per il Fienga Village Festival per sabato 25 giugno e già la seconda data invece sabato 9 luglio. è un'iniziativa, anzi un ambizioso progetto che unisce l'amore per la musica elettronica e il rilancio e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e artigianale dell'agro. Il castello Fienga sabato 25 giugno sarà aperto al pubblico dalle 18 con l'apertura del mercatino di design artigianato, moda ed arte. Dalle 21 si darà il via alla parte musicale dell'evento. La terza edizione della rassegna di musica elettronica vedrà il suo inizio con le esibizioni dal vivo di Marvin Egae, Giovanni D'Amico e il live degli Inud. Mentre invece domani 21 giugno a Pagani la festa della musica, un evento che si svolge in contemporanea nelle principali città italiane ed europee che per la prima volta si tiene a Pagani grazie all'attività dell'amministrazione comunale, dell'assessore alle politiche giovanili Carmela Pisane e del forum dei giovani di Pagani. Grazie a questa iniziativa la festa della musica sarà palcoscenico per oltre 30 artisti che si esibiranno in diversi generi musicali nei principali spazi della città quali Piazza Corpo di Cristo, Villa Comunale e Piazza Sant'Alfonso. Bene, ora noi ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo la pubblicità, poi parliamo di calcio ma anche di subuteo. A dopo.